Buongiorno a tutti da Andrea della Selle di Brescia, oggi abbiamo avuto il compito di integrare la funzione Apple CarPlay ed Android Auto a questa Jeep Cherokee dotata di display 8.4. Abbiamo utilizzato un'interfaccia, un hardware vero e proprio, che ci permette di integrare questa funzione. Avremo quindi a disposizione le applicazioni compatibili con CarPlay, in questo caso perché abbiamo attaccato un iPhone, o da Android Auto, in caso utilizzassimo uno smartphone Android. Si mantiene il funzionamento della telecamera originale. Direi quindi un accessorio assolutamente fondamentale, che è tra i più richiesti in assoluto al giorno d'oggi. Se anche voi volete integrare questa funzione sulla vostra vettura, non esitate a contattarci, il nostro sito è selcarshop.it e mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Alla prossima!